Ciao, sono Stella. Oggi mi trovo nel quartiere Demnichi di Cracovia. Questo è Gemme G in un minuto. Sono nella chiesa di San Stanislao Kostka, una chiesa moderna a singola navata con una tipica pianta a croce latina. È stata costruita nel 1929 e consacrata nel 1938. San Giovanni Paolo II, un patrono di questa giornata mondiale della gioventù, ha partecipato come giovane studente alla cerimonia iniziale. Diversi anni dopo, appena ordinato sacerdote, Karol Wojtyla ha celebrato una delle sue prime messe in questa chiesa. Questa settimana abbiamo introdotto una nuova pagina interamente dedicata al meteo, che sarà senza dubbio molto utile per tutti i volontari e pellegrini che arriveranno in Polonia nel mese di luglio. Questo servizio fornirà anche suggerimenti su cosa indossare e cosa mettere in valigia. La pagina meteo è disponibile nelle otto lingue ufficiali, tra cui l'italiano. È possibile visitare la pagina digitando il seguente indirizzo o facendo clic nell'area Info Pack del nostro sito web. Il 4 luglio ricorderemo il beato Pier Giorgio Frassati, le cui reliquie saranno esposte durante la settimana della GMG nella Chiesa Domenicana di Cracovia. E questo è stato GMG in un minuto di questa settimana. Continuate a seguirci, manca davvero poco all'inizio della giornata mondiale della gioventù. Ci vediamo nel prossimo episodio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS